C'è sempre gente in gruppo Dovevo seguire a te e fare la double Sì, vabbè rip dai Pace pace Let's go Boh raga Allora anche se abbiamo perso GG lo stesso perché mi sono difesa Nel modo migliore possibile Però è stata comunque una bella partita Se riusciva era tanta roba Eccolo lì O due Parzi scusami non hai visto nessuno Ma prima di andare in storage c'è qualcuno che entrava dall'elettricity Perché sono andata diretta verso il basso a destra E non mi ricordo se ho visto un entrare in elec No Demi, demi Ma sbaglio anche tu hai fatto quella della benzina Però tu sembri che hai fatto solo Ma non l'hai fatta tutte e due No perché E poi c'è stato Le luci di No ma vabbè ma tanto Tanto Neanche io Era che io avevo visto solo Demi Ma neanche io le faccio Quindi Quindi sei andato verso sinistra poi Demi Sì sì Luce Ho fatto le cose di elettricity Velox dove eri? Sì c'era la diabola Che era fuori da elettricity Destra dov'è? Appena ho fatto l'alberello Quello devi fare Il labirintino Dopo ho incrociato Chi vedo all'uscita Da laboratorio O medley Come la potete chiamare Dopo io sono andato a fare La task Quella del telescopio E avete chiamato Il corpo E tu hai visto veramente Quello di prima uscita Chi era? Chi era? Sì perché avevate già riacceso le luci Dani? Mi rovevo in lava Poi sono andato a admin Sì schifiamo Non abbiamo niente Schifate Schifate È una stergoneria sta gioco Grazie per il pensiero A domani cara Domani mattina Ave Maria Ho trovato il corpo della Diablo In elettricità Proprio appena La stavo andando a fare io L'ho trovata lì Ragazzi Ragazzi posso dire la mia? Posso dire la mia? Allora Io stavo Allora vi dico questa cosa Io adesso ero i battiti Ok venivo da in alto a destra E ho visto peraltro Electro e Veloxi al 100% Che erano in basso a destra Ve lo posso garantire La Diabla L'ultima volta che l'ho visto Andava in Mad Bay Dalla decontaminazione Quindi dal basso verso l'alto E infatti era lì Perché stava facendo lo stand Ok Bravo E io adesso ero Al battito cardiaco E mi ero messa davanti All'emergency button Perché volevo riportare Per dirvi di matto La kill dell'arancione Ancora non c'era Quindi a mio parere Questa è una kill report Perché nei battiti C'era solo matto morto E l'arancione non era morto Ed è stata così fatta Velocemente Che è impossibile Dani dov'era? Io Vuoi sapere tutto il giro? No Dove l'ora? Comunicazione Stavo facendo l'upload Che ho fatto Prima il download Poi ho fatto l'upload Allora Inizialmente quando io uscivo Diabla saliva E voi l'avete visto no? Perché poi sono rientrata Sono rientrata Cioè voi siete andati Prima di me Quindi Ipoteticamente Se io, Velox e Electro Non siamo perché eravamo a destra Mancano quelli Alte a sinistra Io quello che vi dico Che nel battito L'arancione non era morto Quindi per me È self report Io sono sicura Io sono di quest'idea Io sono del kill report Io sono del kill report Perché è stato troppo veloce Raga Quindi se mi sbaglio Mea culpa Ma è stato troppo veloce Secondo me Per forza Allora è Dani Chi non era a sinistra Dani e Demi Dani e Demi Chi ho edo è Dani Chi ho edo è Dani Ragazzi 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 Mi ascoltate un secondo Ora ok che Prima ho detto la cosa di Parsi Però perché del battito Ho visto veramente questa cosa Vi posso dire Electro posso dirti una cosa Allora Quando hai scattato il reattore Sono andata nella parte di destra E c'era Electro Che era già lì Io volevo andare all'emergency Dani mi ha seguito In tutta l'emergency Io sono riuscito a baitarlo Uscire fuori E Dani non ha mai chiamato l'emergency No Tu da crewmate Tu da crewmate Dovevi carlo È morto È morto È morto Demi Io non ci sono mai andato Certo Per questa kill Certo Per questa kill Ok Ma tu Mi hai seguito dentro l'emergency Per fare l'ultima kill E tu da crewmate Perché qualsiasi crewmate Si sarebbe messo lì A fare l'emergency Tu mi hai seguito Ti ho baitato E sono uscito fuori Tu non hai fatto l'emergency E tu da crewmate E tu da crewmate Da crewmate L'emergency lo fai Perché sai benissimo Perché sai benissimo Che una double si fa E l'altro per secondo me È Kyo Perché Electro 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 e velo Electro e velo Io mi fido È incredibile Lascio Lascio un secondo Demi Come se c'esse prima con Dani L'altro è Kyo Fidati È Kyo È Kyo Fidati che Kyo Fidati che Kyo L'altro secondo me È Kyo Raga Mi fa strano O è velox O Kyoedo O velox Non credo sia Electro Francamente non credo sia Electro What the fuck? Rischiamo? Non sono Mecchio E tutto No Io non Non ho fatto questo report Per rischiare Ho fatto questo report Per il Kyo Cooldown Sincera non l'ho fatto Per rischiare Ah ok E lo potevi fare pure prima E io Eh lo so Lo so Ma lo so Ma io avevo milioni Di tasse da fare L'ho appena finito In questo istante Io l'ho già finita Eh Ti dico Martì Io se non sto puzzando Di te di velo È solo Non vi ho visti So solamente che Quando vi ho visti Eravate sempre insieme Questa è l'unica cosa Che mi fa pensare Che non potete essere Né tu E nel lui Tu eri con Velox No prima no Perché Perché Che Kyo Edo I ron di prima Quando io volevo fare L'emergency Madani me lo voleva impedire Lui veniva da sinistra Da electricity E poi Se lui poteva ammazzarmi Se lui lo ammazzarmi Non poteva farlo Perché magari c'era il cooldown Quindi Okio E ma La kill era davanti Electricity Come lo sai Io avrei potuto uccidere Electro Electricity Scusami Tu hai visto Tu hai portato La kill in electricity Prima sì E allora Che io veniva da lì Che io veniva da lì Sì vabbè Pure io Diciamo così Vabbè ragazzi Ve lo ho sgamati entrambi Che io non mi ha fatto Parla doppia Aspetta Zitti 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 Sono un c***o Di genio Vai a letto Non mi ha fatto Parla doppia Che io era una easy win Proprio E vabbè Non sono Vai Impostore Last game No f***ing way Se lo perdo bestemmio Chiudiamo qua Anche se non se ci sta qualcuno Ok Axelosama ha visto Quindi se faccio una kill Diciamo che è rischioso Però potrei anche farlo Non posso fare nessuna kill Raga Non posso ammazzarlo Non posso ucciderlo Sono in una situazione Un po' Un po' scomoda Ma mi ha visto Parzi che non è salita la task Sì mi ha visto Mi ha visto che non avevo fatto la task Non potevo fare niente Ero costretta ad uccidere Ma aveva visto che la task Non era salita Palesemente Dove? Non dico dove è il corpo posizione Vabbè Io posso dire che Electro non è Per il semplice fatto che Quando sto facendo lo scan Ho premuto il pulsantino E mi ha detto Io adesso ero in basso a sinistra Dove Nella taskola ad angolo E c'era uno che veniva dall'albero Però non so chi fosse Io ho girato tutto il tempo la mappa Perché uno C'è volevo fare Cercare di trovare il corpo Perché ero sicuro che dopo Le volte che hanno fatto luce E una volta arrivato E poi sarà molto forte Eh sì 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 Io ero più o meno sicura Che parti fosse buono Perché quando mi sono messo a fare lo scanner Almeno è rimasto lì a guardarmi E poi da lì però ci siamo splittati Prima volta non capisco Non capisco Corvo Perché ha detto che ha visto Arsena Io ero dentro Appunto Perché io lì Perché io lì Corvo Non l'ho visto con noi Perché io ero dentro le bottiglie Vabbè Comunque sappiate Che il corpo Si trovava proprio In mezzo ad Admin Ed era stato ucciso Praticamente adesso Perché uno Era uscito poco fa C'era qualcuno Probabilmente che era in security Perché ho visto che c'erano le camme accese Chi era quella persona in security? C'era quella persona in security C'era il seretto Però è stato lì prima Ah ok Era per capire Era per capire le posizioni Perché delle camme accese C'erano sicura Ma ne sono morte Due o tre Scusatemi Due mi so Troppo di alzheimer Tre Ah quindi era tutta prima round Questo Che ha detto che manca una tasca Devo finire le tasche in mezzo Che doppia Di già ti manca una tasca Electro No nientra Sei need for speed Allora tre kill sono state molto buone Attualmente nessuno si aspetta di me Però il fatto che Marta Ha già istantaneamente scagionato Electro dicendo che lui non è l'impostore Perché Ha detto che era buono Quindi Questa cosa è Va pro di lui Il fatto che vincono di tasca Dobbiamo sbrigarci Dobbiamo letteralmente sbrigarci C'è uno che ora esce dalla decontaminazione È rientrato? Wait Gatto per farmi finire sempre le tasca Allora Ah quindi è la diabla Ok Chi aveva detto prima alla diabla Che non era Che non Non dovevamo fidarci Corvo Corvo mi pare Corvo è morto Io Io l'unica persona che ho incontrato Inizio inizio Ci sono incrociati Io con Marta Verso il basso Che io entrava a destra E lei penso fosse andata a sinistra Poi credo di non aver beccato Nessun altro Forse Forse Lollo C'è che andava verso Mad Mi pare Basta C'è l'Elollo Voi dove siete ora? Eh io stavo finendo Come si chiama? Il telescopio Io a fare Quindi eri sicuramente In basso a destra No In alto Il telescopio è in alto Bibi Non è in basso Io inizialmente Lollo L'ho visto entrare Dalla porta normale Di Mad Chi hai visto Per l'ultima La diabla Che era dentro La decontaminazione Oh no Oltre lui La prima che ho visto È stata Martina Sì all'inizio E poi te E poi te Non ho visto nessuno Ma ti posso assicurare Che l'hanno appena fatta Perché io mi sono girato Per andare verso Appunto dalla tua parte E l'hanno chillato Però Lollo Mi poteva uccidere Quando eravamo sopra Perché in teoria Eravamo solo io e lui Io l'unica persona Che non ho visto All time Sotto Xela E poi Io non ho visto Xela Xela non l'ho mai visto Eh ma manca Ragazzi fatemi parlare Ma ci sono 10 secondi Dobbiamo fare qualcosa Ragazzi Ragazzi Xela Xela Ok Xela è l'ultimo Che non c'è Comunque io non ho visto nessuno Perché stando al telescopio Magari sono venuti Dalla botola Nel bagno E quindi No 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 È un impossibile Perché nella parte Che è sotto In basso a sinistra Adesso Non c'era nessuno No la botola del bagno Ma non è vero no Esatto Ma era Grande tecla Vedi che non ti ho accusato io Punto numero uno Eletro ma come Baby Bella No è troppo difficile Che non abbia visto nessuno Eletro Bella Io ho fatto Che marta Marta Sono serio Ragazzi dovete parlare Uno a uno Però E io non l'ho fatto tutto il tempo Ho fatto due killer Rischiosissime Allora Ero